un'eseruzione attuale un bel, per un'idea, è un gioco più spettato, è che si possono vedere come è un video. Una macchina magnifica, un gesto atletico e tecnico bellissimo. Un abitore in una nulla è candidato al premio divinio e un gol dell'anno, fantastico, apprezzare per coordinazione, precisione e anche quel pizzico di coscienza. Grazie a tutti.